Stadio Tardini, ore 20.45, parte il campionato di Serie B. Il Bari sarà ospite del Parma nella gara che inaugurerà il campionato cadetto con tanto di cerimonia. Quattro anni, due mesi e nove giorni dopo il pareggio a Cittadella nei playoff 2017-2018, quattro anni e 27 giorni dopo il fallimento del 16 luglio, una delle date più buie del calcio barese. Di fronte ai biancorossi, il fortissimo Parma di Vazquez, inglese Buffon, che non sarà della partita, come Cobo Osorio e l'ex Schiattarella. 1128 i tifosi biancorossi che hanno acquistato il tagliando del settore ospiti, un dato che ricorda gli esodi degli anni d'oro della Serie B e della Serie A. Mignani dovrebbe affidarsi allo zoccolo duro della passata stagione, con la squadra schierata con il 4-3-1-2. In porta Caprile in vantaggio su Frattali, in difesa Puccino di Cesare, Terranova e Ricci, con Foloruncio che, a meno di sorprese, sarà preferito ancora una volta a Derrico e Maite e Maiello a completare la mediana. I tre uomini d'attacco saranno Botta, Chedira e molto probabilmente Antenucci, che dovrebbe riprendere il suo posto al discapito di Cangiano. Non ci saranno Benedetti, Squalificato e Seter, che non è ancora in forma ottimale, arbitrerà la partita all'internazionale Massa d'Imperia, coadivato da Moro e Garzelli.